Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi vi insegnerò come aumentare la fotocamera del vostro EvoTouch di quarta generazione da 0,7 megapixel a 1 megapixel e questo servirà per aumentare la risoluzione delle vostre foto da 960x640 pixel a 1280x720 pixel Allora, quello che vi servirà, appunto, intanto dovrete avere Cydia installato quindi dovrete aver fatto il jailbreak Allora, vi servirà un'applicazione, quindi entriamo in Cydia e andiamo in cerca e dovete cercare un'applicazione chiamata HD Photographer eccola qui Allora, questa applicazione costerà 79 centesimi però credo che alla fine valga la pena spendere 79 centesimi perché alla fine aumenterà la risoluzione delle vostre fotografie quindi adesso dovete installarla e poi riavviate il vostro iPod adesso andrete nella fotocamera andate nella fotocamera e vedrete qua vedrete qui qua sopra ci sarà scritto HD Off voi intanto così quando sarà spento farete le fotografie con risoluzione normale e quando lo accenderete vedrete che ci saranno queste due barre perché in pratica farà userà la risoluzione che userete per quando farete i video in HD quindi appunto quando sarà normale in questo modo vedrete che appunto mancherà una parte appunto quando fate il doppio click vedete che ci sarà appunto una parte in più della fotografia quindi per esempio io scatterò adesso una foto così normale senza l'HD e adesso lo scatterò con l'HD per farvi vedere la differenza ok adesso andiamo nelle foto allora questa è la fotografia normale vedrete infatti vedete questa parte qua della cassa del computer mancante andate nell'altra e appunto vedete che qua ci sarà una parte in più perché infatti avrete usato un megapixel invece di 0,7 e ragazzi questo è tutto alla fine credo che appunto questa sia un'applicazione buona da scaricare e molto utile non dimenticatevi che se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al mio canale per altri video appunto sull'iPod e l'iPad e votate i pollici in su questo video e aggiungetelo ai preferiti va bene grazie a tutti grazie a tutti per aver visto questo video ciao